Grazie a tutti Ehi! Fermo! Ti ho trovato? Ashoi? Ciao... Come hai scoperto questo posto? Ecco, ti stavo seguendo mentre camminavi in giro per il bosco, quando ad un certo punto sei entrato in quel varco e quindi ci sono entrata. Ma perché cavolo mi stavi... Dannazione, muoviti, ti porto fuori. Ma perché? Non è giusto! Dammi una sola ragione per andarmene! Tipo che il mio maledetto nascondiglio segreto dove... Senti, allora, non puoi stare qui. E invece rimango. Quello era il tuo stomaco? Ho... fame. Mangiamo qualcosa qui. Dopo però esci. E vai! Ehm... cosa c'è dentro? Formaggio e insalata. Ehm... Che fai? Guarda un po' in giro. Adri, ma... effettivamente... cos'è questo posto? Ah, niente di che. Diciamo che il mio posticino ha partato. Adri... Ti sei mai chiesto cosa siano questi frammenti sparsi in giro? Non ne so nulla, ma plausibilmente saranno i resti di qualche civiltà vissuta qui in passato. Non saprei. Più che rovine, sembrano pezzi di più cose incastonate nella pietra senza nessuna correlazione. Cosa intendi dire? Di rovine ne ho viste, ma queste sono strane. Se guardi bene, la pietra dei frammenti è diversa da quella naturale, eppure è come se fosse organicamente legata. Quanta fantasia... Piuttosto, Ashoi, la tua permanenza qui è durata fin troppo, non credi? Eh? Ma che... Ah! Nooo! Cannato! Ciao, ciao! Ciao, ciao!